Weekend di controlli da parte della Guardia di Finanza nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 472 tra persone e attività commerciali, 28 le sanzioni complessive. Multato il titolare di una pizzeria di via Cavalcavia. Nel locale non venivano indossati i dispositivi di protezione individuale e all'esterno si formavano assembramenti fuori controllo. Scoperti contestualmente anche sette lavoratori in nero. La compagnia di Pozzuoli ha sanzionato cinque giovani che non indossavano i dispositivi di protezione e ha verbalizzato il titolare di una frigitoria perché uno dei dipendenti non indossava la mascherina. L'attività commerciale rimarrà chiusa per cinque giorni. La compagnia di Tore del Greco, presso due distinte agenzie di scommesse, ha sanzionato due persone che non indossavano le mascherine. Inoltre, emerse dalle verifiche, situazioni illecite non legate al virus. In particolare in via Partenope denunciato un cittadino italiano alla guida della propria auto sorpreso senza patente. In Piazza Dante invece sequestrati alcuni grammi di hashish ad un giovane immediatamente segnalato alla prefettura. A seguito di una segnalazione sequestrati tra via Fratelli Grimm e via Bronzi di Riace quattro chili di sigarette di contrabbando, con conseguente denuncia un sessantenne. La compagnia di Giuliano in Campania ha sequestrato un locale dove sono stati scoperti 540 capi di abbigliamento contraffatti, denunciati due responsabili. La compagnia di Tore Annunziata ha sequestrato in via Roma quasi 10 chili di sigarette di contrabbando, nei confronti di un 25enne di Bosco Reale. La compagnia di Casal Nuovo, nel corso di un controllo in un appartamento, ha sequestrato diversi accessori per telefonini con noti marchi di fabbrica contraffatti, denunciato un quarantenne.